Il riconteggio ha ribaltato il verdetto incoronando come nuovo segretario di federazione del Basso Molise del Partito Democratico non più l'uscente Michele Palmieri ma Giuliana Ferrara. Il risponso è arrivato ieri sera a distanza di una settimana dai congressi e dopo la riunione della commissione provinciale e regionale che ha anche riassegnato i delegati 25 per la Ferrara e 20 per Palmieri. La proclamazione del segretario del Basso Molise l'ha rimasta in sospeso sia per i ricorsi presentati dalla sfidante Ferrara sia perché alcuni verbali dei circoli non erano ancora arrivati nella sede centrale e solo ieri è stato possibile rieffettuare il conteggio che ha dato ragione alla giovane insegnante di Petacciato che ha accumulato 365 voti contro i 260 dell'uscente Palmieri. Soddisfatta del risultato Giuliana Ferrara ci ha premiato il lavoro all'interno dei circoli ha commentato a caldo ora rimetteremo in cammino la federazione saremo itineranti presenti in ogni circolo cercando di incrementare la squadra e di creare quella rete che sola potrà dare forza al partito e alle persone. Il lavoro di squadra aggiunto è stato fondamentale e al team della costituente dal Basso Molise voglio esprimere il mio grazie più sincero per l'impegno, la determinazione e soprattutto per la forza e il coraggio che hanno saputo trasmettermi ha concluso la Ferrara. I tre ricorsi invece che aveva presentato sulle presunte irregolarità che avevano riguardato lo svolgimento dei congressi cittadini il 26 e il 27 ottobre sono stati tutti respinti perché la commissione ha ritenuto che fossero stati protocollati fuori tempo massimo senza dunque entrare nel merito.